I cittadini inglesi che volessero seguire una dieta più vegetariana in questo periodo dovranno rassegnarsi. I supermercati britannici lamentano infatti una carenza continua degli ortaggi che costringe la grande distribuzione ad una vendita decisamente razionata ed il problema sembra essere comune anche ad altri paesi europei. Il motivo principale è l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Spagna e in altri paesi del Mediterraneo che da soli contribuiscono al 60% della produzione di ortaggi in tutta Europa. Disponibilità limitate quindi e prezzi alle stelle per le poche scorte. Gli esperti dicono che ci vorrà un mese per una buona produzione in serra mentre per quella a cielo aperto almeno ad inizio della primavera.